C'è qualcosa che si sta muovendo in casa Veronica ci sei? Veronica ci sei ancora? Veronica rispondimi Ragazzi allora facciamo pari dispari Dobbiamo muoverci, dobbiamo andare sotto il divano Pari, ok Dispari, 1, 2, 3 9 7, dispari Va bene, vado prima io però Scopritemi Tengo troppo paura Ma che sta venendo qui? E' altissimo Voglio solo bere 30 litri da Andiamo in cucina a bere l'acqua E' via, io open up Ma lì? Controlla questa volta Controlla questa volta No, non c'è qua Fede andiamo di qua No, no, non c'è qua Ok Io non lo vedo Ragazzi state attenti E' aperta la porta Prima era chiusa a chiave La finestra è aperta La finestra è aperta Andiamo qua Andiamo qua No, non è lì Che c'è? Che hai visto? 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 Ma che stai di... Ma è enorme 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 Federica dov'è? Federica dove è andata Federica? Abbiamo perso Federica Ma che è successo? Che è successo? Ok sono andato io prima Quindi montate voi Controllate sotto i divani No Dai vedi là Vedi sotto qua sotto Vedi No 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 Dove è? Ha chiuso la porta a chiave Non si apre più Questo è il rifugio del lupo Fede Hai paura? No Vediamo di sotto al divano C'è un fogliettino qua sotto Qui Ma non ci arrivo Spostiamo il divano No 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 Chi è? Sta qua Sta qui Sta qui Sta qui Nasconditevi Vedete il divano Vedete il divano Vedete il divano Nasconditi 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 Dietro di va Qua dietro Qua dietro Giù 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 Aiuto Non è che se la ride Non stanno usando Mi sa Sta zitta Ti stai zitta C'è anche l'ascia È armato di ascia Aiuto Non stanno usando Chi ha il telefono? Stiamo solo urlando qua Oddio Chi è? Anna, una mia amica Ma ci sta il lupo e tu marchi al telefono qua Mi ha chiamato Come devi chiedere? Muoviti, c'è il lupo fuori da porta Non puoi ridurli Mi devi lasciare così e poi fare la scomposizione del dominatore Sì No, l'ultimo non mi ricordo Cosa dice per l'ultimo indizio? Non l'abbiamo ancora detto E dove sta? No, chi ha l'ultimo indizio? Non ce l'ho No, ce l'avevi tu Non lo penso Aglio Cipolla E mo? E mo? E mo? Come si fa? Oddio Ah, buona vera Se le armate? Viacce Sì, perfetto Andiamo Quel lupo non ci fa paura Vera, che sta succedendo qui? Lupo ti è arrivato un regalo Che gli stai dando al lupo? Lupo ti abbiamo dato un dono Vediamo se il lupo arriva Lupo vieni Non vieni Gli taccio dei cani Ehi, cos'è là sopra? Quello Lo vedi? Che mi è arrivato Due di volta E io scappo No, sta qua Dov'è? C'è scritto Illuminatemi Che sarebbe la luce Ma non è là sopra Il lampadario Oh mio Dio Ma come facciamo a prendere qualcosa? Non lo so Il prossimo indizio sta sopra il lampadario E quindi dobbiamo prendere la scala Prendiamo la scala Raga, sento dei rumori È qua dentro Andiamo a prendere la finestra È qua Oddio È qui È qui dentro Lo scaletto Vedete lo scaletto che sta Qua io lo metto Oddio L'ho visto Vabbè vai Presto Prendete l'indizio Apri la Muoviti Non mi mantenga Ti prendengo io No, c'ho più Ce la fai? Hai preso l'indizio? Né Ok, brava Grande Sì Il prossimo indizio Sono nel punto più alto di tutta la casa Quelli che lo volevi Ma abbiamo fatto sto casino Che c'è? Hi Ragazzi il lupo si è nascosto di qua Vabbè nel frattempo cerchiamo il punto più alto della casa Lupo ti ha dato un biglietto d'amore Dio L'uomo Puzzi Puzzi tantissimo Puzzi di cacchita L'uomo Puzza e non riesce E' al lupo Ragazzi Si sta avvicinando Si sta avvicinando TG Federica E siamo qui In diretta Perché Oggi Tra questa porta Scorreremo Vigenza Ok Già è finito TG Potremo entrare dall'altro lato della casa Anche attraverso il battaglio della camera È aperto FBI Open up È chiusa Il punto più alto della casa Sono due O è là sopra O è quello sulla cucina Questo è il punto più alto della casa Ragazzi ho paura perché se viene il lupo io cado Ragazzi do dei passi Muoviti Aiuto 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 Che è successo Il lupo Come catturiamo il lupo Al lupo cosa piace? Il bacon Diamo Diamo gli e la cacciotta Al lupo La cacciotta Non gli piace? No Ah sì Questo piace al lupo Questo Ah un bel pezzo di carne per attirare il lupo a chi ora Oh mio Ma no Dammi Dammelo di trarre Dammelo Questo è per il lupo No Lo voglio Lo voglio Lo voglio No Vera Vera No No Vera ha mangiato l'esca del lupo Perché? Vera Era squisito Il lupo si addormenta con la chitarra Io la posso suonare Vai prendete la chitarra Sto suonare la roba fin dentro Ehm ragazze Per Federica Lo tocco? No Lo posso toccare? Quase Siamo gli agenti sociali Per dentro Raga Raga sta vedendo Sta vedendo Sta vedendo Sta vedendo Sta vedendo Raga Raga non è sicuro Che ti viene? No 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 Aiuto Fatemi entrare Fatemi entrare Ma dove è il lupo? Papa Ah 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 No Adesso tocca il soffitto Bambina Bambina aiuto Ah Ah Se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della VittoFamily dovete avere assolutamente le magliette ufficiali Per avere la maglietta ufficiale della VittoFamily con l'autografo basta andare su vittorioloffredo.it e la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra e diventerete dei veri e propri membri della VittoFamily Vittorioloffredo.it vi aspetto lì ciao Ciao